Zona rossa, zona arancione, il caffè d'asporto, lo possiamo bere, non lo possiamo bere. Asporto, non asporto, chiusura, non chiusura, alle 6, non le 6. Tra colori e regole che cambiano in fretta, ai commercianti di Milano non è sfuggita la polemica e la conseguente confusione per il loro lavoro sulla Lombardia, zona rossa per una settimana, ma con dati d'arancione. Rossa, arancione, verde, ma i problemi nostri non se ne fregano proprio niente. Problemi che alcune associazioni di categoria pensano perfino di trasformare in class action contro i responsabili delle chiusure forzate costate almeno 600 milioni di euro, iniziativa supportata anche dai sindaci di Bergamo e Varese Giorgio Gori e Davide Galimberti. All'inizio fu la regione a contestare la zona rossa chiedendo di sospendere il provvedimento e perfino facendo ricorso al TAR contro il DPCM ma secondo il ministro della Salute Speranza è la Lombardia ad aver trasmesso dati errati poi rettificati tesi confermata da una relazione dell'Istituto Superiore di Sanità ma contestata dal Pirellone. Solo dopo la proposizione al TAR e l'erroneo inserimento in zona rossa il governo ha riconosciuto le nostre richieste e io confermo che i dati inviati dalla regione Lombardia sono sempre stati corretti. Presidente Fontana, la regione ha fatto ricorso al TAR contro il DPCM, ora da Roma dicono che però c'è stato l'errore nell'invio di alcuni dati. È una notizia assolutamente falsa ed offensiva nei confronti della regione Lombardia. Noi abbiamo sempre mandato i dati in maniera trasparente e assolutamente veritiera. I dati che sono stati utilizzati sono stati richiesti dall'Istituto Superiore della Sanità. Perché avete detto di voler proseguire con il ricorso al TAR? Perché noi vogliamo che venga accertata la verità. Il ricorso deve stabilire come si sono svolti i fatti e di chi è la responsabilità. Io avrei potuto rinunciare nel caso in cui non si fosse creata questa situazione. A questo punto andremo fino in fondo. Come mai, Presidente, secondo lei la Lombardia è sempre al centro delle polemiche politiche? Bisognerebbe chiedere a qualcun altro che le polemiche nei confronti della Lombardia le continua a stimolare.